Seconda vittoria per l'Acri che riesce a risalire in classifica e supera il periodo nero che era subentrato dopo le sconfitte con Promosport e Rossanese. Una partita abbastanza tranquilla quella di oggi contro il Rogliano per i Cosentini che con un rigore di feraco e il raddoppio sul finale del primo tempo di Rose mette subito la gara in discesa e quindi festeggia l'arrivo delle festività natalizie con il quarto posto in classifica tenendosi nella potenzialità di poter disputare. Alla fine del campionato i playoff sperando sempre ovviamente di non incorrere nei famosi dieci punti di stacco visto che la Rossanese ha ancora una partita da recuperare non avendola giocata oggi nella trasferta di Sant'Agata. Comunque fatto sta che la squadra che era retrocessa dall'eccellenza dimostra di poter rigiocarsi ancora le sue aspettative e le potenzialità in questo campionato per cercare proprio di risalire in eccellenza.